Grazie. Grazie, velocemente, che saranno i miei commenti su questo, anche se non scendo troppo in profondità, che richiedono queste osservazioni tue, sue, e in ebraico non c'è tuo, cioè suo e tuo, è una cosa che non esiste ma come l'inglese, quindi devo ricordarmi sempre di queste cose. Lei ha detto che, a proposito, ci sono tre, quello che ho dimenticato di menzionare nella mia introduzione, che oggi come oggi ci sono tre dialoghi che esistono tra il mondo ebraico e la Chiesa Cattolica. Il primo dialogo è quello cosiddetto religioso. Noi abbiamo discusso che proprio dialogo religioso non lo è, ma sono degli incontri tra cardinali e rabbini del rabbinato, è un ufficio del rabbinato principale in Israele, che ormai è entrato nel suo quinto anno e discutono i valori comuni tipo la sacralità della vita, la sacralità della famiglia, questioni morali e così via. Quindi un livello tra i rabbini con vari cardinali tipo cardinali Mechia, cardinali Cotier, cardinali Casper ed altri. Il secondo dialogo che si sta svolgendo in questo mondo ormai da qualche anno è tra lo stesso, c'è l'ufficio del cardinale Casper che è responsabile dei rapporti religiosi con l'ebraismo e anche il capo del di Castero, diciamo dell'unità della Chiesa, Presidente, con le organizzazioni ebraiche mondiali, tipo American Jewish Congress o B'nai Brit o World Jewish Congress e così via. L'attività si svolge su progetti comune per aiutare la lotta contro l'alfabetismo in Sud America, aiutare la lotta contro l'AIDS in Africa e così via. E il terzo dialogo esiste ormai da 13 anni, abbiamo parlato della Bar Mitzvah, tra i due segretari di Stati, diciamo così, il Vaticano e il governo israeliano. Quindi io, essendo il quarto ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, non mi occupo di questo dialogo interreligioso né quello istituzionalizzato, cioè organizzazioni ebraiche nel mondo e il Vaticano. Perciò quello che dice lei forse è ragionevole, lei ha ragione, forse sa meglio di me, però io non scendo mai in questa piazza. Cioè cercare di pensare che quali sono le ragioni, quali sono i pensieri veri dietro una mossa politica del Vaticano, sì o no. Io giudico dai fatti. È difficile per me seguire questi correnti, quello che c'è nella base, diciamo, nella mente, prima di fare queste decisioni. Quindi per forza. Io a me piacerebbe, e qui forse dirò una cosa che sarà una sorpresa per lei. Faccio un appello, ho già parlato con alcuni nella Chiesa, per amalgamare questi tre dialoghi. Io penso che la Chiesa sta approfittando di queste tre dimensioni diverse. Parlano con gli ebrei qua, l'istituzione, cioè i rabbini, e poi lo Stato di Israele. Quindi settoriando così, privitaggiando, diciamo, questo dialogo che dovrebbe trascorrere tra il mondo ebraico rappresentato da Israele in questo caso e il mondo cattolico rappresentato dal Vaticano. Quindi è una difficoltà, però questo, dove dove ho visto questa necessità di amalgamare, di mettere tutti sotto un tetto, diciamo, uno, unico. Nel quarantesimo anniversario di nostra etate, l'atteggiamento della Chiesa era che nostra etate ha un significato solo per noi, teologico, religioso, niente coinvolgimento quindi della Segreteria di Stato. Quindi non ci sarà nessun rappresentante della Segreteria di Stato. E non ci sarà invitato neanche un rappresentante dello Stato di Israele, il governo israeliano. Che io vedo molto grave. Perché c'era un Papa, Giovanni Paolo II, che ha capito che malgrado ciò che non è stato scritto verbalmente nella nostra etate, che non è menzionato lo Stato di Israele e lo Stato del Vaticano. Ma è ovvio, questo è un logico che segue questo ragionamento, la ragione, diciamo, di nostra etate. E lui, ripeto, lui è andato in Israele rendendo una visita, visitando il nostro Presidente, riconoscendo la nostra sovranità politica in Israele. E lui ha detto che il popolo ebraico, lo Stato di Israele appartiene al popolo ebraico. Quindi un riconoscimento pieno, doc. Quindi questo va apprezzato. Lei ha ragione, ci sono delle cose, ci sono delle sfumature, ci sono delle correnti, ci sono antisemismo. Ci sono tutti in questo mare, chiamato il mare del cattolicesimo. E io non sono capace, non solo per comodità, ma anche per praticità, scelgo di rappresentare questo vincolo molto stretto chiamato la politica. Oltre questo, tanto per complicare le cose, posso aggiungere anche e dire che c'è ancora un'ignoranza in Israele. Alla mia vergogna, cioè, much to my shame, io sono vergognoso, mi sento vergognoso nei confronti di questa vicenda, che pochi in Israele riconoscono questa attività, sanno l'importanza, o apprezzano l'importanza che ci sia un ambasciatore di Israele presso la Santa Sede. Ci sono quelli che non lo sanno che c'è un ambasciatore presso la Santa Sede in Israele. E tra quelli che sapranno diranno, ma perché mandare un ambasciatore presso la Santa Sede? Già c'è un ambasciatore a Roma, un ambasciatore bilaterale per lo Stato israeliano. Quindi un'ignoranza totale. E lei chiede già una sofisticazione, già seguire la Chiesa e dire, ma la Chiesa sta facendo questo. Non c'è nessuno che fa queste analisi. Purtroppo. No, dico purtroppo. Chi lo sta convincendo? Cercando di convincere. Allora, e questa è una realtà che lascia molto, ma molto a desiderare. Perciò so che, essendo solo il quarto ambasciatore, è l'inizio dell'inizio. Perché facciamo i nostri primi passi. Primi passi, poi, 13 anni, sono niente nei confronti, a paragone, diciamo, tutta questa lunga storia di quasi duemila anni. Quindi pazienza, non solo per voi, ma anche per noi, chiedo affettamente. Lei dice che manca un leader della Chiesa che sappia questa cosa qua. Il problema è che nel confronto, diciamo, di quello che sta accadendo ultimamente, e mi riferisco alla crescita della minaccia musulmana nel mondo, per mancanza di altre parole, non posso definirlo altrimenti, direi, faccio una breve profezia, oserei fare la profezia dicendo che voi, la Chiesa Cattolica, o il cristianesimo in generale nel mondo, vi confischeranno, non lo so, esiste questa parola, confiscare? Sarete confiscati, diciamo, di questa agenda, non avrete più la tranquillità di decidere cosa volete mettere sull'agenda interreligiosa. Ci sarà questa tensione sempre crescente, ci sarà un duello, ci sarà la necessità di affrontare dei pericoli quotidiani che man mano cresceranno. Quindi sta sparendo, diciamo, questo periodo di lusso che la Chiesa può riflettere e dire, ma, no, andiamo a sinistra, questo già è un lusso che sta esaurendo, secondo me. E quindi noi, volendo o meno, noi ebrei, saremmo trascinati, purtroppo, in questa vicenda, perché quello che dico io, adesso dico, metto questa bomba qua alla fine del mio intervento, anche se volendo si può cominciare veramente un intervento molto lungo, inesaurabile, io credo nello scontro della civiltà. Io credo che questo Samuel Huntington, che 13 anni fa ha sviluppato questa teoria, aveva ragione. E questo lo assistiamo giorno dopo giorno, si sta svolgendo in una maniera abbastanza spaventosa, e si sta crescendo. Quindi i rapporti, i futuri rapporti tra la Chiesa e il mondo musulmano sarà proprio, avrà, cambierà pelle, si chiamerà uno scontro, a volte positivo, a volte meno violente, ma ci sarà uno scontro. Quindi l'agenda sta cambiando tutto qua. Prendo spunto da questa ultima considerazione per chiederle se la Chiesa attualmente, la Chiesa di Roma, può avere un ruolo positivo a prendere un dialogo all'Islam. E quale, che tipo, concretamente? Sì, sono due, no, questo è pesante, cioè... No, non c'è la prima cosa. Prego. Due o tre domande molto semplici e brevi. A proposito della necessità di educare alla conoscenza reciproca dal punto di vista religioso, etico, mi chiedevo, anzi, sono convinto che lei conosce l'esperienza che c'è in Israele di Neveh Shalom Mu'at As-Salam, vicino al convento di Latrun, e che cosa ne pensa di questo tipo di esperienza. E poi, saltando dall'ambasciatore e presso la Santa Sede e buttandola in politica, che cosa ne pensa di quel concetto, per quanto riguarda il problema israelo-palestinese, di equivicinanza che il Ministro degli Esteri italiano ha ripetutamente espresso, venendo poi deriso anche per questo, secondo me, ingiustamente, io personalmente condivido questo concetto che è stato espresso sia per quanto riguarda i rapporti con il Libano, la vicenda recente e drammatica del Libano, sia per quanto riguarda i rapporti tra Israele e i palestinesi. E poi, da ultimo, una cosina magari un po' futile, ci sono molte ragazze qui, quando in Israele ci sarà oltre al Bar Mitzvah anche il Bat Mitzvah. In Italia c'è già da qualche parte, a Milano, per esempio, è venuta anche una rabbina, è venuta da fuori e, insomma, ha introdotto nell'ebraismo ortodosso italiano degli elementi così un po' dirompenti da un certo punto di vista. Io mi fermo qua, grazie. E' vero che esiste anche il Bat Mitzvah per le ragazze, però io, puntando sul Bar Mitzvah, ho guadagnato ancora un anno. Cioè, il Bat Mitzvah si fa all'età di 12 e il Bar Mitzvah invece 13. Siccome già si troviamo nell'anno dodicesimo, approfittiamo... Sì, mas... Sì, vabbè, ma è più o meno la stessa festa. Per quanto riguarda la Nevershalom, quel progetto in Israele è bello, ma è troppo particolare, puntuale. Cioè, una certa vicenda che non ha avuto un grande seguito. Purtroppo, dico, mi piacerebbe moltissimo vedere un altro... c'è un grande seguito. Poi, dico la verità, mi piacerebbe vedere lo stesso villaggio, lo stesso idea, la stessa idea anche nei paesi arabi, che non c'è ancora. Cioè, tutti questi esperimenti accadono in Israele, tanto per ribadire, per ripetere quello che ho detto io. Dobbiamo noi sempre stringere la mano, tenere la mano tesa per stringerla, per accogliere qualsiasi iniziativa per la pace. equivicinanza. È un termine che ha stabilito il mio amico personale, anche se non so quanto si può... Ma... è un'invenzione di Andreotti, non del Ministero degli Esteri italiano. Il Ministero l'ha preso, l'ha adottato, va bene. Io non scendo in questa piazza, perché essendo l'ambasciatore presso la Santa Sede, non vorrei calpestare su questo terreno. Poi, tra l'altro, il nuovo ambasciatore presso l'Italia è venuto oggi da Israele, quindi, con il massimo rispetto, non scelgo di non rispondere a questione sulla politica del Ministero degli Esteri italiano. Quindi, non spettammi a dirlo, anche se ho un'opinione abbastanza valida, abbastanza sviluppata. Direi questo, sulla... Diciamo, come può... contribuire alla Chiesa questa vicenda, la prima domanda che ha fatto alla realtà medio-orientale, il conflitto israelo-arabo. Io direi in due fasi, in due piani, in due temi. Prima, e uno che ho toccato prima, è la... c'è il flusso sempre crescente dei pellegrinaggi. Io, veramente, credo nella capacità di questi pellegrinaggi di veramente capovolgere, cambiare notevolmente il processo di pace. Creare un'atmosfera positiva, dare la speranza della ripresa economica a questa vicenda. e con voi ovviamente saprete che oltre che il processo di pace che quando arriveremo a questo accordo sarà un accordo politico tra i palestinesi e gli israeliani, ma un accordo che dovrebbe essere abbinato, appoggiato ad una ripresa economica, perché un Medio Oriente senza una base, senza una infrastruttura economica è condannato a fallire. E queste drammatici differenze, divari tra l'economia israeliana e quella palestinese non può continuare così. Se vorremmo veramente arrivare alla pace non possiamo avere un vicino uccino a noi che sia così debole, che sia così indipendente, che sia così incapace di mandare avanti, di varrare o di mantenere un suo paese, un suo stato. quindi ovviamente l'economia deve giocare un ruolo sostanziale, sostantivo molto serio. Quindi questo è numero uno. Poi la Chiesa è sempre stata, ripeto, un elemento positivo mediante, contribuente alla pace. Quindi educazione. Noi cerchiamo adesso, per esempio in Israele, in Israele stesso, Israele del diciamo del confine di pre-67, 4 giugno 67, prima della guerra mondiale del 6 giorni, la comunità cristiana che si trova in Israele sta sempre crescendo. La gente stanno criticando lo Stato di Israele per quello che non fa sufficientemente nei confronti della comunità cristiana in Israele. Ma non è vero. è vero che percentualmente questa presenza della comunità cattolica in Israele è in calo, sta scendendo. Perché? Perché dall'altra parte ci sono degli migranti ebrei che vengono dalla Russia. Per esempio negli anni 90 avevamo una nuova forza di un milione ebrei russi. Questo ha cambiato l'equilibrio. quindi i stessi cristiani percentualmente sono diventati pochi, hanno perso percentualità però in numeri assoluti c'è una crescita. Ma l'idea è non soltanto aiutare i numeri ma il benessere, aiutare coinvolgere le comunità cattoliche che si trova in Israele innanzitutto in Galilea ad essere coinvolti nella vita israeliana, vita sociale. Voi, cioè i cristiani in Israele fanno parte integra della fibra sociale in Israele e noi rendiamo un'importanza sempre crescente da parte del governo ma anche i governi locali alla presenza, al contributo, alla quotidianità nelle scuole, negli istituti sociali, il contributo quotidiano che la Chiesa Cattolica si svolge e si dà alla comunità israeliana. La stessa cosa va fatta in Libano e perché ho fatto questo appello al Papa di fare un appello diciamo ai libanesi di tornare a casa. Ecco uno Stato che per la Costituzione libanese fanno parte ufficiale della popolazione almeno un terzo lo facevano della popolazione libanese ed è stato sempre un ponte tra i vari musulmani drusi e sunniti sciiti hanno aiutato molto adesso durante l'ultimo conflitto in Libano i cristiani hanno aiutato sia sunniti che sciiti che drusi quindi educazione ospitalità atteggiamento moderato un aiuto notevole oltre questo del dialogo tra e c'è interreligioso io sono un po' un po' cinico però questo richiede un altro un altro discorso un altro convegno proprio vi ringrazio ancora siamo noi che ti ringraziamo grazie anche a voi della pazienza spero che molte cose le abbiate imparate ovviamente un po' di bibliografia tanto per non per non smentirsi probabilmente avrete già avuto modo di sentirvi citare un grosso volume che si intitola Vittime che è la migliore storia del conflitto arabo-israeliano che si è disponibile l'italiano un libro molto lungo che però rappresenta senz'altro un bel contributo di lettura è stato citato in modo positivo un libro che senz'altro vedeci citare di Samuel Huntington che si chiama lo scontro di civiltà ironia della sorte la tesi di Huntington non riguarda il problema dell'islamismo radicale del terrorismo di questa matrice riguarda il modo in cui si arriverà alla guerra fra gli Stati Uniti e la Cina e un conflitto fra occidente ed islamismo è secondo lui una fase di passaggio non si sa come si dice nel proverbio dalla padella alla braccia e terza cosa che volevo citarvi invece è un libro in inglese di uno studioso israeliano di Gerusalemme che si chiama Uri Bialer scritto Bialer come si dice The Cross of the State of David che è una storia delle relazioni fra Vaticano e Israele dal 48 fino al 65 dove trovate molte cose interessanti anche che spiegano certi passaggi l'ambasciatore ha citato due volte questo fatto del Papa che va in visita a casa della Presidente della Repubblica come un gesto di grande importanza che si spiega lo trovate nella spiegazione di Bruno Di Bialer anche perché quando Paolo VI andò in Israele nel 64 riuscì ad andare in Giordania e in Israele senza mai dire la parola Israele cosa che richiedeva un'abilità diplomatica sopraffina e quando ritornò a casa mandò una lettera di ringraziamento al Presidente della Repubblica senza chiamarlo Presidente e indirizzandogli alla Tel Aviv quando lui invece abitava a Gerusalemme e questo per dirvi come poi in queste cose le stratificazioni di lungo periodo sono molto importanti e molto significative io sono ancora molto grato a Odette Benur per il pomeriggio che ci ha regalato spero che la cosa sia stata di profitto ringrazio ancora quelli che con noi hanno organizzato la cosa a Reggio c'è una curiosa cosa che si chiama un Limes Club è una piccolissima associazione legata a una rivista di geopolitica che si chiama per l'appunto Limes che organizza anche questi eventi grazie al contributo di Borea che è una cooperativa di cooperative che si occupa di sfidare la cultura a tutti molte grazie e arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.